music planet music music planet allora amici di planet siamo qua a signa al bombardier aspetta dire ma è che si vince che si vince beh ho capito qualche cosa siamo in un locale che c'è veramente tardissima giornata questo è un casino il mitico bombardier è storico è storico per il mondo dei locali è storico per planet tv concordiamo forza viola è sempre pieno una festa è magnifica un macello a signa birreria una famosa birreria dove c'è un milione di persone classico vero pub siamo nella sala fumatori del bombardier che è la più affollata chissà perché se non fumate è meglio però insomma qui si può anche all'interno a calduccio ma io qua non è che piaccio tanto perché qua piacciono tanto le bionde e le rosse voi così non lo sapevo no lo sapevo con io quando è successo questa cosa si fa ora si ha da dove si va non so in bagno? non è in bagno nooo ci stai ci stai provando o state già insieme siamo amici amici ma ci sta provando no no siamo amici ma ci sta provando perché è molto amici sei sicura perché perché non ci provi e che vuol dire vabbè vai ci provo comincia a mettere la mano qui 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 comincia a mettere la mano qua la mano qua non vuole la mano qui l'ho messa e mezz'ora metto la mano qua la puoi mettere la chieda di la mano no è alto sfascio lei è alto sfascio alto sfascio no alto pascio alto sfascio lei invece io tanta roba tanta roba sei fa male fumare ti voglio convertire e che tu mi dai che tu mi dai in cambio la vita ti do allora c'era lui c'era lui che voleva un primo piano con te io pensavo un piede a terre che era meglio perché mi hai detto perché mi hai detto che volevi fare te un un primo piano un primo piano con te un piede a terre era meglio facciamo un primo piano facciamo un primo fatto il primo piano ciak batti in primo piano abbiamo andare le veline le veline le veline ormai è una vita tutti i locali è quasi in pensione non cambia di una virgola è una donna cubo in più che cubo aspettiamo al gol è molto carino e noi ci andiamo e dopo siamo lì a ballare sul cubo ti riprendiamo tutta anche te sul cubo tu invece hai rappresentato la nostra regione in tutta Italia per il più bello d'Italia pensate voi come erano gli altri salutiamo la nonna che segue Plane TV ciao nonna Fabio che è il nostro regista primo piano vieni al primo piano c'è un altro piano sopra mi fai luce che non leggano mi fai luce che non leggano mi fai luce no no mica io vediamo che hai difficoltà ora va bene ho fatto luce avete deciso uno sciottino due sciottini bellissimi bellini siete ma chi hai fidanzato la di destra o la di sinistra io e lui siamo fidanzati ma loro due ma loro sono con voi si si sono con voi pensa hanno quattro donne e altre ragazze bellissime e loro stanno abbracciate tra di sé ci si vuole tanto bene non avete ancora buttato l'amoli non si è buttato è brutto è che non si è attaccato nulla c'era lui che dice io ho una domanda interessante interessante hai una domanda intelligente? eh? qua te la faccio io una domanda prima te voglio sapere se la fidanzata questa è la domanda intelligente telefonate il numero sopra impressione le patatine a destra a ca sinistra la ladies noi aspettiamo tutte quelle che escono dal bagno comanda l'hai fatta tutta? no non so non la vedo scuola ecco ma sta meglio sta meglio ora? si si sei più bella?